Cosa ha appena comprato dal macellaio? La salsiccia. È buona? Non lo so, lo devo provare. Lunedì un'agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che ci sono prove consistenti circa l'aumento del rischio legato ai tumori per chi consuma carni rosse e lavorate, oltre ad altre sostanze sospette sotto osservazione come il caffè. È stato subito panico, tam tam mediatico, gran confusione di numeri e di cifre, tipi di carni, percentuali di rischio e chi più ne ha più ne metta. E allora tra i consumatori la paura della fettina assassina ha fatto crollare del 20% l'acquisto di carni rosse. Ma già dopo 72 ore il tutto sembra essersi ridimensionato e c'è anzi chi non ci ha mai rinunciato. Io mangio sempre la carne. Mangia sempre la carne, senza problemi. Non è che è aumentato magari il consumo di altri alimenti? Nient'altro. Sempre mantenuto costante il livello della carne, non troppo tutte le settimane come solito. Certo, con moderazione. Come giusto. Io non mangio la carne, sono vegetariana. Ah ecco, quindi ho beccato la persona giusta, quindi per lei non è niente di nuovo. No, non la mangio. Non la mangio, quindi insomma per lei questa non è una novità. No, non è solo la carne che non si può mangiare, tante altre cose, dipende con cosa la coltivano. Perché non è la carne, la carne non ha fatto mai male. Quindi è quello che... E' tutto il resto che purtroppo non viene nutrita con le cose giuste. Signora mi scusi, posso chiedere che cosa ha appena acquistato? Ho preso della salsiccia. Ecco, buona. Come la fa? Beh, io adesso la tengo nei fagioli o nelle lenticchie, secondo. L'OMS ha detto che la carne rossa andrebbe consumata con prudenza, pare che faccia venire. Ma io non è che ne consumo tanta, non tutti i giorni. Ho preso il pesce. Quindi insomma una dieta variegata. Variegata. La carne rossa fa male, ha sentito? Sì, l'ho sentito. Cosa ne pensa? No, ne penso che bisogna vedere in quale quantità se ne mangia di carne rossa e quante volte alla settimana. Anche gli insaccati dicono, insomma, i salsicci. Lo sapevamo già, lo sapevamo già da tanto tempo. Quindi con moderazione. Io credo con moderazione. È una mia impressione comunque, è una mia opinione. Con buona pace dei vegetariani, quindi, per i più esperti, nel giro di 15 giorni tutto sarà passato nel dimenticatoio. Ed il resto, se la fiorentina ha resistito alla mucca pazza, una fetta di mortadella non può certo spaventare nessuno. Noi italiani, in fondo, non siamo mai stati dei grandi voratori di carne. Il nostro consumo medio, dicono le statistiche, è di 100 grammi di carne rossa due volte alla settimana e solo 25 grammi di carni trasformate. E ora, dopo salsicce e caffè, chi sarà il prossimo a salire sul banco degli imputati? Allora, i clienti che entrano in macelleria in questi giorni, come commentano questa cosa della carne, che fa male l'OMS, ha fatto questa dichiarazione? Allora, i clienti ne parlano, tanto è normale perché comunque i medi hanno bombardato in tutti i modi. I clienti ne parlano, sono attenti, ma soprattutto cercano di stare attenti alla qualità della carne. La carne deve essere genuina. Tutti sappiamo che l'alimentazione deve essere varia, si deve mangiare di tutto. E quindi, mangiata nelle giuste dosi, non è vero che fa male, soprattutto se è genuina.